Siamo con il Ministro Gianfranco Rotondi, come valutare questo richiamo alla questione meridionale che deve essere una questione nazionale da parte del Presidente Schifani? Il Presidente del Senato si è posto sulla tradizione del migliore meridionalismo, che non ha mai rivendicato una specialità del mezzogiorno, ma ha iscritto questo tema in una dimensione nazionale complessiva. Lui ha detto da uomo del Sud che questo mezzogiorno sta cambiando, è davvero così? Lui può dirlo forte uomo del Sud perché è un personaggio di grande caratura nazionale, ma ha forti le sue radici a Palermo, città che ha dato tante amarezze alla Sicilia, ma anche tante glorie e anche tante buone idee per lo sviluppo del Sud. Ora c'è la sfida del federalismo, una sfida chiaramente difficile soprattutto per le amministrazioni locali del mezzogiorno. Non è che io nasconda una preoccupazione per il Sud sulla via del federalismo, ma dico anche con buon senso che peggio di com'è andata con il centralismo non andrà. Quanto è difficile far capire al Nord, almeno ad una parte del Nord, che il mezzogiorno non è un problema ma una risorsa alla fine per il Paese? Il Nord ha chiarissimo che il mezzogiorno è una risorsa, ma anche che la sua classe dirigente spesso è un problema. Hotel Ristorante La Locandina, un'atmosfera da sogno per una splendida cerimonia.